Tino, adesso crolla il New Jersey, tutto New York, le reti, i server del mondo, perché facciamo un cross da una serie a un'altra, Tino, un cross da una storia a una... Goal. Lui intanto è l'attaccante, guardalo. Mamma mia, sta arrabbiato, però nel frattempo Lello, lui e Giovanni, lui e Giovanni, Lello e Giovanni, chi te lo doveva dire? Oggi stai conoscendo un vero VIP, il direttore, il condirettore di Quinto Potere, Lello, perché sei così? Perché mi stai mangiando con gli occhi? Che succede? Che succede? Senti gli uccellini? Oggi è Lello no comment, oggi non è Lello no problem, Lello no comment. Ecco, eccolo qua. Fammi capire la cosa? Vai. A che gioco giochi senza delle altre persone? Senza confusione? A che gioco giochi senza delle altre persone? Senza delle altre persone. Che vuol dire? O ci capiamo o non ci capiamo tutte e due. È ovvio che o ci capiamo o non ci capiamo. Che siamo sempre colleghi, ricordati. Che tu, che cosa fai? Giri intorno, giri intorno, giri intorno, giri intorno, però quando fai i buchi, fai così, invece di fare dritto, scendi giù. Fai come la birra, sale e scendi, sale e scendi. Chiedi a Gianni, hai capito? Già, hai capito già? No, no. Ho perso un concetto. Ascoltolo. Spiegalo a Gianni. No, non spiega a Gianni. A me. Io mi rivolgo direttamente al mio collega. Vai. Stop. Solo tra colleghi. Solo tra colleghi. Allora, che così fa il buco, non così così. Sì. Che ve l'ho detto? Che tu, come l'altra volta, lo dici anche a te, lo dico anche a te, non ti devi offendere, anche questi tu, tu su di me ne fai assai. Ma di nuovo questa cosa. Gianni, scusami te, felice cangilla. Eh, scusami. Dai, facciamo una cosa. Perché questo e altro, lo sai. Cosa puoi dire a Lello per incoraggiarlo e poi Lello da un incoraggiamento a te? Vediamo che cosa viene fuori. Vai. Cosa diresti, avendo seguito la sua storia? Vabbè, mi fa... Anche la sua storia... Mi fa molto piacere che anche lui si sta reinserendo nella società e ha fatto pure lui un grandissimo passo. Spero che continui così e non ricada, come diciamo noi, nel peccato e nell'alcol e nella sostanza. Perché sta bene e fa molto piacere. Come l'hai visto? Molto più... Rispetto alle prime volte. Molto meglio di come stava quando stava sotto all'unità diretta al ponte di fronte all'area 51. Noi ci siamo visti altre volte anche. Perché era la zona che probabilmente frequentavate tutte e due, no? Sì, vabbè, lui per andare là, io per altri sì. Eh, ovvio. Ognuno per il suo. Ognuno per il suo. Lei, belle parole quelle di Giovanni, eh? Ma io ripeto dire, aveva sempre un disabile, forse non è chiaro. Il problema è il disabile. Ma il disabile non c'è più che... Pare di tuo padre. Esattamente. Ok. Però, c'è, ha avuto la perdita della moglie. Eh. E che, c'è, io devo guidare la ragazza e me la vedo da solo. E però farò fare alla ragazza molto più grande, c'è progetti molto più grandi. E noi te lo auguriamo, ovviamente, come ha detto Giovanni, senza che possa ricadere nella tentazione. Vabbè, sei stato contento di questa visita? No. No problem. Per te è tutto normale, capito? Per lui è tutto così. Sei a uomo. Un incoraggiamento anche a Giovanni da parte tua. Reciproco. Di qualcosa a Giovanni. L'unica cosa che dico, cioè lui dalla parte e io dalla parte, lui è diversa la cosa. Ma molto diversa. E quindi ci deve mettere più impegni. No, eh, lui sì. Ah, perché prima ci diceva che era preoccupato, no? Perché gli abbiamo detto che siamo stati a Bari, siamo stati... Ah, va bene. Ha detto, ma sta tranquillo, sta tranquillo, te lo possiamo garantire, sta tranquillissimo. Sono andato assolutamente anche gli amici che stavo prima, le cose, però... C'eravamo anche noi qui, tutto a posto, tutto a posto. Non mi fa né caldo né freddo, anche se stanno loro non ci stanno. Comunque, se voglio andare a tentare di nuovo quella strada, lo potrei fare in qualsiasi momento o secondo. La verità è che è qua. Poiché ho fatto, mi sono fatto questa promessa a me stesso, più che altro, di non cadere più nella tentazione della sostanza. Ma, ripeto dire... Perché non è male la pena più. No, ascoltami, là c'è una piccola cosa, perché ti dico questa qua, neanche te la devi immaginare tu da solo, bello Gianni. Eh, lo so. Perché si può dire che quell'articolo tuo, pure dove stavo io, è la stessa catena, anzi, diversamente. E poi se è da pupazzo, ti dirò come, quando e perché, se non riesci a capire. Sì. Ah, no, tu non riesci a capire. Io ti ho capito. Tu hai capito, ti? No. Io non ho capito. È una cosa nostra. Lasciamoli parlare, dai, lasciamoli parlare. Magari si dicono delle cose che noi non possiamo sentire, allontaniamoci, ti. Magari lei non riesce a farsi capire da Giovanni, no? Perché ha detto senza pupazzo. Eh, infatti. Ah, hai visto? Non c'è nessun pupazzo. Non c'è nessun pupazzo, non c'è nessun pupazzo, non c'è nessun pupazzo. Non c'è nessun pupazzo, non c'è nessun pupazzo. Non c'è nessun pupazzo.